Ogni volta che abbassano i saracineschi un negozio storico della città, si ascoltano scontate geremiadi. Affiorano nostalgie per ricordi legati a quella bottega, per la riconosciuta professionalità degli esercenti e il servizio che sapevano garantire al cliente. Ma l'episodio, la chiusura del negozio appunto, viene consegnato alla ineluttabilità delle cose. Si dice sono cambiate le abitudini dei consumatori e soprattutto è cambiata l'offerta commerciale con le piattaforme online che in tempi rapidi ti recapitano in casa tutto quello di cui ha bisogno. Fermare tutto questo è impossibile e continueremo inevitabilmente a vedere negozi storici abbassare le saracinesche. E a piangere, dico io, lacrime di coccodrillo, perché in questi anni non si è fatto molto per sostenere il commercio tradizionale. Non lo si è certo aiutato facendo proliferare centri commerciali outlet e supermercati in ogni quartiere. Il centro delle terrazze era stato presentato come un intervento che avrebbe richiamato visitatori da un bacino di utenza extraprovinciale e che avrebbe dispiegato benefici effetti anche sul commercio del centro città con i bus che avrebbero fatto la spola tra il centro commerciale e i centri storici. Abbiamo visto tutti come è andato a finire. E poi c'è il problema dei parcheggi, promessi da ogni amministrazione e mai realizzati. In tutti i sondaggi effettuati in questi anni salta fuori che il consumatore preferisce il centro commerciale alla rete tradizionale dei negozi, soprattutto per la facilità del parcheggio, gratuito e magari anche coperto, mentre risulta impresa ardua trovare un parcheggio a pagamento in centro città. I negozi storici che chiudono, e lo fanno ben inteso per svariate ragioni, sono una nota triste, non solo perché si spegne una luce nel paesaggio dei nostri ricordi e dei nostri sentimenti. Sono una nota triste perché è la città che si impoverisce, che diventa più buia e meno accogliente e ristoranti, pizzerie, trattorie che aprono in ogni angolo della città non bastano e non basteranno a riempire quei vuoti. Abbiamo in città un piccolo commercio eroico. Sì, eroico. Non ci sono solo gli agricoltori delle cinque terre che strappano pezzi di terra coltivabili alla collina. Eroici sono anche quei commercianti che si rifiutano di spegnere l'insegna, che stringono i denti, si alzano ogni mattina, alzano ogni mattina la sera cinesca e che anche quando decidono di passare la mano cercano la garanzia della continuità e del rispetto della tradizione. Questi commercianti chiedono però comprensione e politiche di sostegno, soprattutto sul piano fiscale. Nei giorni scorsi sui social ho letto lo sfogo di un commerciante che scriveva testuale Amazon non paga le tasse in Italia ma nei pari avvisi fiscali, mentre io con i miei scontrini e le mie tasse finanzio la nostra sanità. Quando non ci saremo più non penso che una colonoscopia potrete rivolgervi a Bezos per averla. Bezos che è il fondatore e il presidente di Amazon. Parole amare ma illuminanti. E non è il consolante sapere che quando a Santo Stefano aprirà il mega capannone di Amazon chiuderanno nel giro di alcuni anni migliaia di partite IVA nella nostra provincia e non solo nella nostra provincia. Che cosa si può ragionevolmente fare per evitare la maina bandiera dei negozi di vicinato e impedire la lenta ma progressiva desertificazione dei centri storici? Innanzitutto rendere consapevoli i consumatori degli effetti delle loro scelte. In questo senso la campagna efficace di sensibilizzazione potrebbe promuoverla le organizzazioni sindacali dei commercianti e poi gli stessi commercianti sono chiamati a cambiare passo, a sintonizzarsi con la realtà che cambia velocemente, a specializzarsi sempre di più e a ritagliarsi i quote di mercato anche con il digitale. Chi si ferma è perduto.